Avvocato Masiello, in qualità di legale, sta coordinando ai lavori per dar vita ad una cooperativa e gestire di nuovo la sosta a pagamento a formia. C'è, soprattutto, e questo da evidenziare, l'autorizzazione, il parere di favorire da parte del giudice fallimentare, oltre che del curatore. Un momento importante anche sotto l'aspetto inventoriale, ma anche sotto l'aspetto economico, perché la gestione della sosta a pagamento favorisce anche la stessa economia formiana. Sì, è quello che si è cercato di fare e credo stia avvenendo, cioè lanciare una sfida a questa città, in cui, come è stato rilevato e viene continuamente rilevato anche dalle associazioni di categorie economiche, la gestione della sosta sta influenzando negativissimamente la vita quotidiana e l'economia della città. Il curatore ha espresso un parere favorevole, molto articolato e favorevole, circa la proponibilità e l'approvazione nel merito dell'istanza di affitto d'azienda presentata dagli ex dipendenti della società che stanno per costituire la cooperativa, appunto per offrire questo lavoro. Il giudice delegato ha approvato questo parere e la procedura sta andando avanti proprio per realizzare questo contratto di affitto d'azienda con la cooperativa che permette il reinserimento e quindi l'immediata soluzione dei problemi lavorativi dei 31 dipendenti, la gestione di questo servizio fondamentale per la vita della città e al contempo risolve i problemi economici anche della curatella forme e servizi. Antonio Candeloro, Consulente del lavoro. Un piano industriale che voi avete definito al ribasso, naturalmente è un piano molto realistico. Ora si attenta il parere da parte dell'assemblea dei creditori, voi addirittura confidate di mettere in piedi questa cooperativa nell'arco di 15 giorni? Nel rispetto logicamente dei tempi della procedura, quindi il comitato dei creditori riceverà una proposta di affitto d'azienda che nel dettaglio verrà esaminata martedì prossimo a Roma con il curatore fallimentare, una volta definiti questi dettagli il curatore trasmetterà ai membri del comitato dei creditori per il parere dovuto per legge in ordine all'ammissione o non ammissione del fitto d'azienda. Per quanto possa apparire paradossale, potrebbe essere la cooperativa a inaugurare sotto l'aspetto funzionale l'ultimato parcheggio di piazza delle poste? Nella relazione del curatore fallimentare è incluso tra i beni dell'azienda fallita anche il multipiano delle poste, quindi potrebbe essere anche questa la soluzione.